Ciao a tutti, a tutte, a tutto ciò che c'è in mezzo e benvenuti a un nuovo video di pietre dove mi, vi, ci porrò quella che secondo me è la domanda non solo del Giro Italia, ma la domanda più interessante di tutta la stagione ciclistica. Remco Evenepol ha delle possibilità concrete di vincere il Giro Italia 2021 oppure no? La domanda alla quale non potremo avere risposta ovviamente per qualche settimana, ma è la madre delle domande che non si fa dormire la notte in questo periodo. Come vedete qui a Casa Pietre siamo tutti tesissimi a riguardo. Bacco, ma secondo te ce la fa o no? Dai, dici la tua, non fare il timido, sappiamo che sei un grande esperto di ciclismo. Eh niente ragazzi, Bacco non riesce a rispondere, allora prova a rispondere io dai. Premessa, questo video è una domanda, è una domanda rivolta a tutti voi, spero di generare una discussione. Credo che sia la discussione più interessante appunto del ciclismo del 2021. Nessuno di noi ha la verità in mano, tantomeno io che sparo un sacco di cazzate, che chiamo Irsi Marshall, che dico che Jakobsen è belga, è il prezzo a pagare quando parli tantissimo purtroppo, ma questo video è rivolto a voi, mi piacerebbe fosse la base per un discorso. Io raccolgo qualche dato, provo a buttar lì qualche opinione, ma in questa settimana per arrivare al Giro sarei molto felice di raccogliere tanti pareri e magari eventualmente alla fine anche di fare una cernita e delle percentuali, sino forse. Vediamo, intanto entriamoci. Il giorno del suo debutto al Giro Italia, nonché debutto nella sua carriera in un Grand Tour, l'8 maggio, saranno passati 266 giorni dall'ultima gara, forse dal giovane fenomeno belga. 266 giorni sono tantissimi. Sulla carta sarebbe pressoché impossibile pensare che un atleta, dopo tanto periodo fuori dalle competizioni, senza alcun tipo di clima agonistico addosso e di ritmo soprattutto, possa competere con chi ha trovato la gamba nel tempo, ha accumulato giorni di gara ed è sicuramente più pronto ad affrontare sforzi in fila, come si fa in un Grand Tour. In questi 266 giorni è successo di tutto, qualche mese fa ho fatto un video con il riassunto di tutte le tappe dell'infortunio al bacino, subito da Remco al Giro di Lombardia l'anno scorso, e ci eravamo fermati a quando Remco per la seconda volta durante il processo riabilitativo aveva dovuto fare un passo indietro e scendere dalla bici, smettere di andare su strada e tornare a fare solo esercizi in palestra. Da quel momento, all'inizio del Giro, avevamo calcolato che sarebbero passati circa tre mesi e mezzo. In questi tre mesi ci sono state notizie positive, sappiamo che Remco ha compiuto un training camp completo con la squadra, mostrando buoni dati, a quanto trapela molto vagamente, molto in pillole, dall'entourage della Decniquistep, che hanno fatto a mio avviso nella seconda parte del processo riabilitativo un ottimo lavoro di privacy, di segretezza sul ragazzo, e l'hanno tenuto lì buono buono, zitto zitto, molto gnorri, sia per quanto riguarda il recupero fisico all'infortunio, sia per le aspettative che avranno sul ragazzo. Nelle prossime gare, in particolare nella sua gara di debutto, che molto particolarmente, con una scelta molto controversa, sarà proprio il Giro d'Italia, il suo primo GT, la prima volta che Remco dovrà affrontare 21 giorni di corsa di fila, con un gruppo così ampio, con degli stakes, con della posta in palio così alta, e questo è il principale motivo per il quale, se stessimo parlando di un corridore normale, o anche quasi di qualsiasi altro corridore, la risposta alla domanda iniziale si potrebbe già dare, sarebbe no. Come fa un corridore di 21 anni a correre il suo primo GT, senza neanche aver costruito la gamba nel periodo precedente, e andarlo a vincere, o anche solo competere per un po' di una top 5. Il problema è che stiamo parlando di Remco e Venepol, che sul mio canale, in più di un video, ho un pochino sfondato, non ci sono andato leggero, perché a mio avviso il suo comportamento fuori dalla gara, nel suo primo anno e mezzo di carriera, dopo aver saltato l'Under 23, è stato un po' troppo arrogante, è anche poco conoscitore di certi meccanismi del gruppo, molto ingenuo, molto spontaneo, può risultare fastidioso, può risultare individualista, ma nulla di tutto ciò toglie a Remco neanche un pezzettino dell'infinito talento che si ritrova a disposizione, e che abbiamo e avremmo infinito piacere di osservare, sperando che quel bruttissimo incidente non abbia avuto conseguenze a lungo termine. Da quello che sembra da fuori, pare che Remco ad oggi stia bene, a livello fisico sia perfetto, e la considerazione da fare, principale a mio avviso, è che se la Quick Step decide di portarlo al giro, Remco sta bene, altrimenti non lo porterebbero direttamente al giro Italia. Una corsa nervosa, difficile, complicata, anche mentalmente, ok, che l'obiettivo di Remco nella sua carriera saranno i Tour de France. Paradossalmente i mesi scorsi a cui Step ha parlato del giro come praticamente di una corsa in preparazione ai Tour de France futuri, ma se lo portano, secondo me sta bene, e il nodo di tutto il discorso, secondo me, è che se sta bene, con le qualità che ha, per Remco è quasi impossibile, in un certo senso, arrivare in una posizione di rincalzo. Cioè, io non ce lo vedo un Remco che arriva a sesto, settimo, che rimane coi migliori in alcune tappe e si stacchi remediabilmente in altre. Secondo me qui è un tutto o niente. Cioè, se Remco sta veramente bene, dimostra di sapersi adattare alle meccaniche di un Grand Tour, con tutte le difficoltà del caso, che per altri atleti sarebbe magari l'infinita mole di montagne o di chilometri da fare, per lui, penso, sarà più l'affrontare le tappe nervose, gli ultimi chilometri prima dei tre chilometri all'arrivo nelle tappe di volata, quando bisogna stare davanti, si sgomita tantissimo, in un GT bisogna limare tantissimo, bisogna essere furbi, esperti, ci sono un sacco di discese, ci sono tante condizioni atmosferiche diverse. Questi sono gli aspetti nei quali Remco, secondo me, può perdere il terreno in qualche tappa, nelle tappe più nervose, magari per finissere, nelle quali la sua disabitudine a stare in gruppo può emergere. Ma quando c'è da fare una salita secca, quando c'è da fare un acronometro, se lui sta bene, i valori sono quelli, e difficilmente non sarà devastante. Non scordiamoci che Remco l'anno scorso è stato l'unico corridore di tutto l'anno a battere Ganna in una crono e gli ha dato 30 secondi. Non scordiamoci che ha disputato quattro giri brevi e li ha vinti tutti. Erano di secondo piano, ma comunque è una cosa folle. Il ragazzo sembra avere ogni tipo di caratteristica che serve per un GT, dalla brillantezza, alla sfacciataggine, al fondo, e pure alla squadra, perché la Quick Step al giro di quest'anno avrà una delle squadre migliori dell'otto. Una squadra costruita palesemente per vincere col doppio capitano Almeida e Venepol. Io penso che anche in Quick Step sappiano che Almeida, quarto al giro dell'anno scorso, difficilmente può ottenere più di un piazzamento. È un regolarista, ma senza dei picchi esagerati, e tende a pagare sempre qualcosina dai migliori, che al giro dovrebbero essere personaggi come Egan Bernal, Simon Yates, Michel Landa. Tutti scalatori veramente molto forti, elite mondiale, a cui dubito Almeida non paghi qualcosa nelle salite più importanti. Tanto quanto l'anno scorso pagava da Tao e Hindley, che a mio avviso sono anche uno o due gradini sotto gli altri che ho nominato, i favoriti di questo giro. Però sicuramente neanche la Quick Step sa quale sarà il processo di Remco in questo giro. Loro ci provano, provano a portarlo. Sicuramente hanno fatto delle grosse simulazioni sul Teide. Potrebbe aver persino simulato un GT intero per quello che ne sappiamo. Potrebbe aver fatto due se non tre settimane di blocco unico con chilometraggi seri per capire se ha il fondo necessario. E secondo me è stata fatta questa operazione e secondo me sono stati fatti dei test prima di decidere che Remco potesse andare al giro. Non stiamo parlando di una squadra di sprovveduti, stiamo parlando della Quick Step, una delle squadre più potenti del mondo e molto probabilmente la più organizzata, con l'Efever che è dagli anni 80 che fa questo mestiere e vince gare. Quello che immagino farà la Quick Step è proteggere entrambi i capitani Almeida e Venepol e poi vedere come va. Se Venepol regge molto probabilmente sarà più avanti di Almeida in classifica e quindi punteranno su di lui cercando comunque di mantenere Joao in una posizione di rilievo perché nessuno conosce il fondo di Remco sulle tre settimane ma quello che mi sento di escludere è che faranno lavorare Remco per Almeida che non faranno la corsa per lui sicuramente sarà un loro corridore protetto. Su questo penso di poterci mettere la mano sul fuoco. Quindi ricapitolando se stessimo parlando di un atleta normale non ci sarebbe praticamente nessuna possibilità che possa essere competitivo se non addirittura vincere un Giro Italia in tre settimane in una situazione del genere. Ma dato che stiamo parlando di un atleta che ci ha già fatto stracciare ogni piano e ogni nostra conoscenza pregressa ogni regola che pensavamo dogmaticamente di applicare alla vita e allo sport Remco è speciale Remco sfida le leggi dell'umano e della fisica io non ci scommetterei mai contro a uno così è uno che vince letteralmente sempre nell'anno da junior ha vinto praticamente tutte le gare che ha corso l'anno scorso ha vinto praticamente tutte le gare che ha corso alla sua prima classica in carriera l'ha vinta la classica San Sebastian sono cose che non avevamo mai visto sono cose che non potevamo pronosticare che non potevamo immaginarci così come non riusciamo sostanzialmente ad immaginarci che un ragazzino di 21 anni che viene da un infortunio gravissimo e da un periodo di fermo enorme possa battere gran parte dei migliori del mondo in quello che è considerato il giro più difficile di tutti ma lui ieri era a fare la ricognizione della tappa che sarà la tappa più difficile del suo giro vale a dire quella dello sterrato delle strade bianche la tappa di Montalcino e allora l'intenzione sinceramente mi sembra quella di venire in Italia per provare a vincerlo sto giro e quando un campione assoluto quantomeno infieri come Remco ha un'intenzione del genere tendenzialmente cerco sempre di evitare di contraddirlo questa era la mia non vedo l'ora di sentire la vostra è un tema dai mille fattori dai mille discorsi potenziali dalle mille risposte e sarà il tema numero uno a mio avviso del giro 2021 se vi è piaciuto questo video non scordatevi di lasciarmi un bel like e con questo vi do appuntamento alle preview dei giorni prossimi ciao